Sono Gilda Boiardi, curatore della mostra Creative Junction qui a Pechino, 2000 metri quadrati, 150 designers, 24 di 24 nazionalità con 700 prodotti. Abbiamo inaugurato questa sera con grande successo di pubblico. Questa mostra ha dato l'occasione di creare una stretta relazione tra Italia e Cina, Pechino e Milano. Insieme a me il curatore è stato il professor Yang Dongyang della Tsinghua University, l'università più importante della Cina. Abbiamo raccolto prodotti e progetti di 150 designer di 24 nazionalità per un insieme di installazioni che hanno messo in scena più di 700 oggetti di design internazionale. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.